dagli scritti di san giuseppe moscati dopo la morte di san giuseppe moscati fu trovato in un libro un foglietto con questo scritto datato 17 gennaio 1922 gli ammalati sono le figure di gesù cristo molti sciacurati delinquenti bestemmiatori vengono a capitare in ospedale per disposizione della misericordia di dio che li vuole salvi negli ospedali la missione delle suore dei medici degli infermieri e di collaborare a questa infinita misericordia aiutando perdonando sacrificandosi coltivando nel cuore rancori si finisce per trascurare questa missione affidata dalla provvidenza a coloro che assistono gli infermi si trascurano pure gli infermi ogni tanto però il signore da un segno della sua presenza e consapevolezza all'improvviso muore un ammalato che non si è saputo attrarre e circondare di cura affettuose speriamo che il signore gli sia vicino nel momento estremo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ame o san giuseppe moscati medico e scienziato in signe che nell'esercizio della professione curare il corpo e lo spirito di tuoi pazienti guarda anche noi che ora ricorriamo con fede alla tua intercessione donaci sanità fisica e spirituale intercedendo per noi presso il signore allevia le pene di chi soffre dai confort ai malati consolazione agli afflitti speranza agli sfiduciati i giovani trovino in te un modello i lavoratori un esempio gli anziani un conforto i moribondi la speranza del premio eterno si per tutti noi guida sicura di laboriosità onestà e carità affinché adempiamo cristianamente i nostri doveri e diamo gloria a dio nostro padre amen ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen i piccoli rimedi del medico santo racconta il dottor michele farano ex medico condotto alla fine degli anni 20 inizio anni 30 ero ragazzo e andavo spesso con i miei genitori a vibonati salerno mio paese nativo confinante con sapri a casa dei miei nonni materni dove erano ancora in vita mia nonna e tre miei zii mio zio federico mi raccontava che fu colpito dai mottisi e fu accompagnato dal dottor biaggio vecchio medico di famiglia a napoli per una visita medica specialistica dal professor giuseppe moscati arrivati al palazzo di abitazione del professor moscati non lo trovarono in casa e aspettarono davanti al portone arrivato il professor moscati entrarono nell'ascensore e il dottor vecchio cominciò a raccontare al professor moscati che mio zio era stato colpito dai mottisi tubercolari già che in quei tempi la tubercolosi era assai diffusa in italia e quando si verificava un mottisi si faceva abituamente diagnosi di tubercolosi alle parole del dottor vecchio il professor moscati nell'ascensore rispose subito e quella è faccia da tubercolitico il paziente ha un ascesso polmonare all'emitorace destro senza avere ancora sottoposto mio zio a visita il professor moscati fece la diagnosi di ascesso polmonare e precisò all'emitorace destro è un fatto sbalorditivo infatti a mio zio al quale il professor moscati prescrisse di curarsi mangiando aglio poiché all'epoca non erano stati ancora scoperti gli antibiotici l'ascesso polmonare si suotò attraverso la parete anteriore delle mitorace destro nella quale era fuoriuscito il pus dell'ascesso polmonare dal quale era completamente guarito in quei tempi l'aglio era usato come medicamento per le infezioni broncopolmonari si sa infatti che l'aglio ingerito si concentra per l'80 per cento nei polmoni come l'alcol per questo si ha un'emissione di odore di aglio e di alcol con gli atti respiratori delle persone che li hanno ingeriti dopo questi racconti si resta stupefatti e ammirati ma non dimentichiamo che moscati era un uomo come gli altri e quindi limitato anche nelle dote in cui eccelleva la sua diligenza e scrupolosità nell'esercizio della professione erano grandi ma a volte non erano sufficienti risulta che più volte ha testimoniato il professor mario mazzeo nei casi di estrema difficoltà con maggiore intensità si dava la preghiera grazie a tutti